Ciao ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero pane! Benvenuti all'interno di un nuovissimo contenuto multimediale, ma soprattutto benvenuti, come sicuramente avrete già intuito dal titolo, alla terza ed ignorantissima puntata del Collegio 6. Siamo già alla terza puntata, siamo arrivati quasi a metà, e l'importante è che siamo ancora vivi. Non so come questo sia possibile, ma è così, ben venga! Lo scopo del video l'avete capito, quindi io direi di non dilungarci ulteriormente, anche perché sinceramente sarebbe una cosa completamente inutile, e noi le cose inutili non piacciono, perciò partiamo! Vi ricordo solo che ogni martedì alle ore 21 siamo in live su Twitch per seguire assieme la puntata in diretta del Collegio, quindi vi aspetto il prossimo martedì, mi raccomando! Se non trovate il nostro canale ve lo lascio qui sotto in descrizione. Questa puntata inizia con il botto, siamo all'interno dell'aula ed è in corso una lezione del professor Maggi. Ma veramente erano poveri poveri, che sfigate! Cioè lui ha appena insultato i poeti perché erano poveri, non so se ci capiamo. Ma che le capisce ste poesie? Scrivono due righe, sembra che hanno fatto... Sinceramente un po' condivido questo pensiero, ve lo giuro, l'ho sempre pensato. Ditemi anche voi qui sotto nei commenti se anche voi avete il medesimo pensiero. Cioè io mo' prendo, scrivo... Mi scriva una poesia, due righe. Attenzione, sta per scrivere una poesia, non ci posso credere. Mi dio un titolo. Va bene, l'insalata. L'insalata? Ma come fai a scrivere una poesia sull'insalata? Cioè quali emozioni ti può provocare l'insalata? Siamo che capolavoro pari alle ciglia finte di Casadei. Mamma mia ragazzi, Casadei io non lo reggo più, ve lo dico, non ce la faccio più. Maggi secondo me gli piace provocarmi. Ma non ha capito ancora con chi ha a che fare. Ma chi cazzo sei? Chi? Spiegacelo, chi cazzo sei? Sentiamo l'opera di Fiorella. L'insalata, le foglie lavate, il pomodorino fresco, poi si getta l'olio. Bravissimo, mamma mia. Che poema incredibile, paragonabile non so a che cosa. Bravissimo, Leopardi. Poi si chiamato Sandro Penne, scrivo sta accusa. Il professor gli diceva... Comunque sinceramente lui mi sta troppo simpatico, ve lo giuro. Eh, le foglie lavate sta a significare la società che è lavata in fondo. È vera, è vera, questa cosa è vera. Sono d'accordo, si cerca di dare un significato a qualsiasi puttanata venga scritta. Non sono tutte puttanate, eh, però... Poi il pomodorino raffresca tutta l'opera. Ma lui è un fenomeno, cioè lui deve fare il comico, altro che il telecronista. Cioè, devo dare atto di una cosa. Che ho ragione. Ma come che hai ragione? Non ti darà mai ragione il professore? Che lei è simpatico. E su questo non ci piove, assolutamente. Raffaele Fiorella, poeta, poeta. Eh, adesso poeta, non esageriamo, non caghiamo fuori dal vaso. Te lo giuro malato quel... Ha proprio rozzo. Perché Casadei ha sempre le sue cose? Per quale motivo? Ma allora cos'è venuto a fare al collegio, scusi? Conoscere persone nuove. Cioè, tu sei venuto al collegio non per studiare, ma per conoscere persone nuove. Hai sbagliato il luogo? Beh, poteva andare in spiaggia, scusi. O in discoteca, ad esempio. Io volevo conoscere loro. Sì, ma non faccia lo strafottente, perché non è un cazzo di nessuno, per cortesia. Qual è il problema? Se lei decide di restare qui dentro, deve fare solo due cose. Stare zitto e stare zitto. Studiare e non disturbare. Esatto, bravo signor Maggio, ma glielo dica a sto perdente. Maggio proprio mi dà fastidio. Invece sei tu proprio a darmi fastidio. Come fai ad essere ancora all'interno del collegio? Come mai non sei stato ancora espulso? Non ce la faccio più, te lo giuro. Ma l'interesse dei collegiali sta per essere catturato da una nuova figura. Oddio, che cosa sta succedendo? Cioè, non mi avevate nemmeno avvisato. Signori collegiali... È arrivato il gallo! In che senso è arrivato il gallo? Cioè, qualcuno ha urlato questa frase. Ma questa chi è? Ma sarà una nuova professoressa, chi vuoi che sia? Signori... Petolicchio, non urli per cortesia che è mattina, non mi rompe i coglioni. Collegiali. Ma è tua madre? Ma se avranno la stessa età praticamente, come sua madre. Ti presento la collega Salardi. Non dirmi che sarà una sostituta della Petolicchio, altrimenti me ne vado. Più che Salardi, salami si chiama, che ne ha mangiate. Ma no, mi dissocio completamente da queste parole, chiedo scudo. Vi lascerò per qualche giorno. Ma non ci credo, ma se ne va via veramente, allora me ne vado anch'io, anche se sono in mutande. E adesso tutti dispiaciuti, di solito ho fatto un casino della Madonna, adesso tutti dispiaciuti. Vado via per una motivazione lieta. Che cazzo ti è successo, Petolicchio? Un matrimonio in famiglia. Oh, che bella notizia di merda. Speriamo che questo matrimonio dura un mese, un mese e mezzo. Sì, ma un matrimonio non può durare un mese, un mese e mezzo. Dove l'hai mai visto? Così non la vedo per un bel po'. Mai più. Arrivederci e buon lavoro. Buon lavoro? A questi glielo dici? Buon lavoro? Ma hai visto chi hai di fronte? Non te ne sei accorta? Ci rincontrerai. Mi mancherà molto. Ma cosa sono tutti questi gesti d'affetto che non sono mai esistiti? Cosa succede? Perché mi piace far casino nelle sue lezioni? Ah, ora si capisce. Sono io stronzo, scusatevi. Devo dire che non sta nemmeno simpatica a me questa collega, eh, sinceramente. Già credo lì che facciamo così, penso con la supplenta. Allora ci ma sciambazze. Non conosco il napoletano ma più o meno ho intuito. Mamma mia che delirio c'è in classe, sono passati 20 secondi, c'è il delirio più totale. Allora, no, 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 facciamo una verifica. Ma magari, guarda, facciamola sta cazzo di verifica. Va bene, iniziamo? Cioè, Sofia che è disperata come sempre per l'andamento della classe. Ma bionda dinta? Dipende. Ma fatti i cazzi tuoi, al di là di questo, cosa te ne frega? Casa Dei. Dio, eccomi. Ma quella non è Casa Dei, è D'Ambrosio, si sono invertiti i nomi, non ci posso credere. E lei? Va bene, perfetto. Ma perfetto cosa? Ma svegliati. Mi dispiace dirlo, però la supplente è... è scema. Ma com'è scema? Ma che deduzione logica è così? Siccome la supplente è scema, non vuol dire nulla. Ma non ci credo, stanno lanciando palle di carta come se fossero delle molotov. D'Ambrosio, si alzi, tieni su tutto. Tutto, dalla prima all'ultima stronzata che hai fatto, tutto. Tutto quello che c'è. Tutto, ho capito, tutto. D'Ambrosio, mi sto facendo coinvolgere anch'io. Verifica! Sì, però per cortesia, non urli anche lei. La prego, già c'è un casino della madonna. Stiamo a fare un po' i maleducati, ma perché se lo potremo permettere? Addirittura ve lo potete permettere, ma chi siete? Avete due anni, ma chi cazzo siete? Allora, basta! No, io non ce la faccio sentire. Io ero casinista, ma non a questi livelli, mamma mia. D'Ambrosio è casa dei. Fuori! Fuori! D'Ambrosio è casa dei, fuori! Fuori, ha detto, non so se avete sentito. Fuori! Fuori, D'Ambrosio! Madonna, ma quanti decibel raggiunge la sua cazzo di voce? Quanti? Prima di tutto, vergogna. Fatevi un esame di coscienza, cavolo. Ha ragione, nulla in contrario, ha ragione. Fatevi un esame di coscienza. Senza casa dei Damno Segiglio, diciamo che si riesce un pizzico a far lezzi uno. Eh, perché credo, loro sono quelli che fanno maggiore casino, è ovvio, è normale. Però è morto il casino, purtroppo. Come purtroppo? Meglio così, cazzo. Quello che succede nell'ora della supplente, rimane nell'ora della supplente. Ma voce narrante, ma hai bevuto? Sei ubriaco, cosa stai dicendo? Meglio dimenticare l'accaduto e mangiarci su. E con il cibo che c'è al collegio, guarda, vai sul sicuro. Sagne con fagioli. E posso sboccare adesso o devo aspettare? E scureggio e poi volo a nasali. Mamma mia, ma che simpatica. Ma dove hai studiato? Come fai ad essere così simpatica? Manco che mi ammazzi, mi magno. Ma chi se ne frega, non mangiare, vai a dormire senza cena, chi se ne frega. Non è come quella che fa mi nonna. Poverino, non è come quella che fa sua nonna, poverina. Voglio andare a casa. Vacci, nessuno ti sta fermando, vacci. Voglio andare a casa. Valla a casa, vuoi. Ma asciutta. Ma asciutta, ma smettila, non rompere le palle. Ma non è solo questo, mi sta venendo nervoso che tutto. Sì, ma non sei la principessa di sto cazzo. Cioè, non sei l'unica collegiale. Perché gli altri non si lamentano in questo modo? Gaiano, non lo vuoi? No. Passa a me. Vieni. Cavolo. No, così però. Cioè, lui cosa c'entrava? Gli hai tirato il cibo addosso. Adesso mi stai facendo veramente girare i santi. Voglio Paul. Ma chi cazzo è Paul? Chi cazzo è? Mi rendo conto che non posso competere col suo ciccione. Ma come col suo ciccione? Ragazzi, io non sto capendo. Questo è body shaming. Cosa sta succedendo? Me ne rendo conto, però. Non c'ho le mani secche. La insulta pure. Insulta pure la sorvegliante che la sta consolando. Ma pensate questa. Eh, lo so. Non mi dica questa che ce ne manco male. Ma cosa stiamo assistendo, ragazzi? Ve lo giuro. Io non sto capendo a che cosa stiamo guardando. 17 anni. Ci si crede invincibili? No, 17 anni e non si ha un minimo di cervello per ragionare. È leggermente diverso. Gaia, per me è la mia amica. Ma dentro ce le parlo sempre. Sì, ma non ti capiamo, zia. Scandisci un po' più le parole, per cortesia. Se ne andrebbe stare male. Eh, hai sbagliato 14 tempi verbali. Gaia deve fare i conti con le proprie emozioni. Ma non sono emozioni queste. Sono solo rotture. Rotture di avete capito che cosa. Invece per Casadei, Figlio e D'Ambrosio. Sono cazzi amari, ma veramente amarissimi, perché li stanno conducendo dal preside. Anzi, dal preside. Questa mattina la professoressa Salardi. Sì, ma la professoressa Salardi se ne deve andare via il prima possibile, ve lo dico. Mi ha raccontato che avete continuato a fare rumore. A fare rumore? Hanno demolito l'aula. A rendere impossibile la lezione. Sono stati veramente degli animali in questo caso. Non si capiva nulla. Se ripenso a quella scena mi dà fastidio. Voi siete a rischio. In realtà sono 18 puntate che sono a rischio queste persone di essere espulse. D'ora in avanti, voi avrete addosso giorno e notte un occhio di bue. Un occhio di bue? Ma dove siamo? Ma cosa vuol dire un occhio di bue? Non ho mai sentito questo modo di dire. Vuol dire che ha il primo errore. Anche microscopico. Microscopico, non so se avete capito. Microscopico. Che uno di voi compirà, se ne andrà. Via, fuori dai coglioni finalmente. Uno di voi sicuro, spero Casadei. Lui è lui che si sta pettinando. Non ci credo, si stava pettinando allo specchio mentre il presidente parlava. Eh sì, lei ha una sfacciataggine imbarazzante. Ma veramente, è proprio maleducato e fastidioso. Ve lo dico sinceramente. Signor Casadei, lei è uno sfacciato. E non solo, però ci fermiamo qui altrimenti mi demonetizzano la vita. Ora vi affiderò le cure del professor Curione. E chi cazzo è il professor Curione? Cioè, ma chi sono sti prof? Che ha anche dei trascorsi militari. È addirittura un ex militare. Mamma mia, che è un veterano di guerra. Adesso, visto che siete tanti così attivi in classe. Ah, ma è il professore di educazione fisica, non l'avevo capito. Voglio vedere come siete attivi facendo attività sportiva. Adesso sono cazzi vostri. Voglio vedere se resistete a questo allenamento durissimo. Pronti? Veloci! Veloci! Veloci, dai, veloci! Uno, l'ultimo. Chiedi! Mamma mia, sono stremati! Forza, chiedi! Signor D'Ambrosio, come si sente? Malissimo, non riesce nemmeno ad esprimersi. Stanco. Adesso io sono a dormire, non vado a dormire a mangiare. Addirittura vuoi andare direttamente a dormire... Non lo so, vabbè, avete capito. Se questa è la punizione, io sto buono in classe. Eh, ti conviene, se non vuoi morire di fatica ogni volta che disturbi, ti conviene stare buono. Gaia si trova in difficoltà. Torniamo alle crisi esistenziali, purtroppo, di Gaia Cascino. E così il collegio decide di farle chiamare casa. Sì, ma questa è un'ingiustizia, allora io mi metto a piangere, a strillare, ad urlare e mi fanno chiamare casa, non è giusto. Sei bravo, ma non ce la faccio, voglio tornare a casa. Ma tornaci, nessuno ti sta obbligando a rimanere all'interno del collegio, non so se l'hai capito. No, mamma, no. No, mamma, no, ti prego, mamma. Non mi vuoi di non venire a casa, è casa mia, gara. Ma perché devi rispondere così a tua madre? Probabilmente ti sta semplicemente cercando di convincere a rimanere lì perché stai sprecando un'occasione. Com'è che non mi vuoi a casa? Ma non è che non ti vuole a casa, ma fai uno più uno, zia, ti prego. Il presidente mi conosce come l'arbero ginecologico. Ecco, dopo questa è ora veramente di andare a casa. Inizia a partire con la macchina perché già me ne sto andando. Attenzione, forse ha preso una decisione, me lo sento. Gaia sembra ormai convinta della sua decisione. E finalmente! C'è un sacco di momenti belli con voi, però voglio andare a casa. Mamma mia, da come la racconti sembra che stai affrontando la seconda guerra mondiale. Io penso che lei è arrivata proprio al limite. Io invece penso che ad oggi non ho ancora capito una tua frase. Non ci starà più né casino né casino. Ma per fortuna, guarda, per fortuna. Mi vengo a piangere ancora. Anche a me ve lo giuro, riesco a trattare. Ma che mi vado a giuro. Ma fa lei lì così? La stava aspettando, me sta andando. Attenzione, se ne sta andando da quello che ho capito. Non c'ho più voglia. È sicura. Al cento per cento. Lasciatela andare, cosa continuate a convincerla a rimanere? Se ne vuole andare, basta che se ne vada. Va bene, allora io non posso fare altro che prender atto di questa cosa. Oh, finalmente signora sorvegliante l'ha capito pure lei. Speravo, come spero sempre, che tutti arrivino in fondo. Eh, ma, eh, sì, ma... Cosa è successo oggi? Cosa è successo oggi? Ma sono nervosita. Il nervosismo passa, o no? Sì, però... Sì, ma perché continuo a parlare come se fosse una lamentela continuamente? Parla bene. Voglio andare a casa a riuscire la vita mia. Non ci vuole ripensare? Ma perché tutti quanti state cercando di convincerla? Questa cosa qui non l'avete fatta mai con nessuno. Allora, oggi vi ho portato un calzone. Un calzone? Ci ha portato, grazie, avevamo fame. Di un gruppo molto importante. Gli FSK? Forse avete già sentito, si chiama Pink Floyd. No, guarda, mai sentiti Pink Floyd? Chi sono? Guarda, mai sentiti? No. Lo conoscete? Questo gruppo? Com'è fatta a non conoscere, almeno... Almeno averli sentiti nominare, almeno quello. No, non ne sta, sono meno fatto. Sì, ma devi calmarti, ogni volta che parli urli. Ma che problemi hai? Calmati, cazzo. Mamma mia, che pezzo, ragazzi. Vabbè, dai, non si sono neanche addormentati. C'è un cimitero, ma cos'è? Cioè, il Casadei ha il coraggio di criticare i Pink Floyd. Giustamente lui è celebre, cantante... Ma vaffanculo. L'altro che sta giocando con l'aeroplanino. Questa canzone qua non mi la fanno, non ci faccio più. Ma perché? Perché? Ma che... Ma mi sta facendo ascoltare una canzone. Magari le mie lezioni d'inglese fossero state così. Ambrosio, cominciamo a tradurre. Ecco, vediamo adesso che figura di merda farai. You think you can tell. Facilissima. You think you can tell. Non lo sai? Provi. Ma impegnati, provaci. Quindi tu pensi tu. Quindi tu pensi tu, pensi tu, quindi pensi tu. Puoi telefonarmi. Cioè, tell l'ha tradotto in telefonarmi? Complimenti. Telefonare? Dire, dire, dire. Parlare. Te lo stanno suggerendo? Dire, dire. No, ma non so che ci fai. No, te lo suggeriti, non lo so fare. Sì, ma calmati. Ti stanno cercando di dare una mano, ti prego. Giglio, blue skies from pain. Giglio, ti prego. Adesso che sei diventato uno dei buoni. Vediamo se ce la fai. C'è il blu dal dolore. Dal dolore, sì. Giusto? Yep. Bravo, Giglio. Tu hai del potenziale. Io l'avevo letta in te questa cosa. Ti fai solo condizionare da quelli che fanno troppo casino. Meno male, Giglio, che sei spostato perché vedo più attento. Bravo, signor Giglio. Vedi che ti prendi pure i complimenti. Bravissimo. Bravo, Giglio. Lecchino. Cioè, a casa dei D'Ambrosio lo stanno pure prendendo per il culo. Ma pensa a te dove siamo arrivati. Ah, Mr. Maroney. Mr. Maroney, ti prego, svegliati, Mr. Maroney. Si tira su e legga queste tre righe. Dai, svegliati, non puoi dormire in questo modo, però è veramente una mancanza di rispetto. Ma è libera. Allora la lascio andare, signorina. Ancora che si sta lamentando questo, me l'ero completamente dimenticato, scusatemi. Saluto, le faccio i migliori auguri. Auguri di buon compleanno, signora Cascino. Perché lei è una ragazza che ha delle donne. Non si sa quali, ma ce le ha. Buon ritorno a casa. Arrivederla. È ufficiale, Gaia Cascino sta uscendo dal collegio. Non mi stava altamente sul cazzo, non mi stava altamente simpatica. Normale, devo dire. Sono felice perché tante lezioni l'ho scotate, l'ho comprese. Ma quando mai? Ma che collegio hai vissuto? Noi abbiamo visto tutt'altra cosa. Mi sento forse un po' punta il leggero. No, su questo mi dispiace, ma non sono d'accordo. No, non ci credo, no, no. Mi mancherà tanto Gaia. Però vedete che comunque mancherà qualcuno. Quindi si vede che ha lasciato il segno in qualche modo all'interno del collegio. Collegio senza Gaia sarà silenzioso. Ed è una cosa positiva o una cosa negativa? Ci mancherà moltissimo a me come ad altri, ma a me penso un po' di più. Vedete, anche lui sta affermando che Gaia le mancherà. Va bene, noi abbiamo vissuto tutt'altra esperienza. Bevo, bevo. No, forse quella non è la canzone più adatta. Le saluto ciccione. Ma chi è sto ciccione? Ancora non l'ho capito, ve lo giuro. Gaia le mancherà. Chiamo più lati domani. Perché la fate parlare se non si capisce? Perché le fate dare questo contributo vocale? Mr. Maroni, si tira su e legga queste tre righe. Cioè il signor Maroni sta ancora dormendo? Come cazzo è possibile? Maroni. No, no. Chiama qualche altro. Dai, ti ha chiesto solamente di leggere tre righe, ma sveglia che fallo. Marone. Marrone. In che lingua sta parlando? In svedese? Eh, non abbiamo finito. Si tiri su. Ma questi collegiali soffrono di narcolessia, non comprendo. Te lo giuro io. No, fatta, io non lo faccio. Secondo me questa situazione sfocia in qualcosa in cui non dovrebbe sfociare. Non stiamo capendo nulla, cambi lingua, la prego. Puoi leggere con un po' più intenzione. Ma perché c'è Casa Dei che tira sempre quel cazzo di libro? Io so esattamente dove glielo tirerei, ma finiscila. Maroni. Maroni. Io io lo leggo un'altra volta. Se le va bene, bene. Se no, cazzuoli. Ah, pure cazzuoli alla professoressa ha il coraggio di dire. Complimenti. Esci. Fuori. Fuori, ti ha detto. Fuori, per cortesia. E non esco. Fuori. Non esco. Ah, decidi tu, va. Decidi. Vabbè, sono cazzi tuoi tanto. Probabilmente ci succederà il delirio adesso. Mi ha amastratto a una mancanza di rispeccio. Ma la mancanza ce l'ha qua, non ho capito io. Eh, il signor Maroni sta esagerando adesso, però veramente basta. Parlerò con il presidente. Non la prego, non con il presidente. Oh, mi lega la bianca. Va bene. Mamma mia, ma quanto è strafottente. Perché? Cioè, io ti apprezzavo poco fa. Adesso mi sei sceso, veramente. Che non... Dai. Che te che fai che te dai. E vatti in da fuori. Quante lingue ci sono all'interno del collegio. Sono poliglotti. Non uscire, non uscire. Ma perché Casadei si deve mettere sempre in mezzo? Ma fatemela capire questa cosa. Ah, se ne sta uscendo pure lui. Vabbè, perfetto. I miei compagni dicono, dicono, alla fine non ho fatto nulla. Sono uscito solo io. Eh, fatti due domande se sei uscito solo tu. E dati anche 14 risposte. Sono un po' vergognosi. No, l'unico vergognoso sei te, fidati. Non ripeto le cose due volte a mio padre, le ripeto a lei, secondo te. Ma che sarebbe addosso? Già, puzza di merda nella stanza, evacuiamola. Sveglia! Sveglia! Il mattino ha il porno in bocca. Giù da letto! Forza! Mamma mia, comunque adesso capisco un po' il nervosismo dei collegiali. Non puoi iniziare la giornata così, ti prego. La gita mi aspetta! Ah, non la gita oggi. Attenzione, la prima gita di questa edizione. Non vedo l'ora. Non è vero. Signori collegiali, buongiorno. Buongiorno. Siamo arrivati alla vostra prima uscita. Mamma mia, che cosa succederà? Se già fanno casino all'interno del collegio, figuriamoci fuori. Vi attende la gita, la visita a Ostia Antica. Bella merda. Scherzo, sto scherzando. Viva l'arte, viva la stanza. Ma vestiti così, dovevo andare in gita. Eh, come ti volevi vestire, scusami. Neanche un pantaloncino. Massiva, mettiti il pantaloncino, guarda. Signor Maroni. Signor Maroni, si chiama. Ho approfondito i fatti della lezione d'inglese con la professoressa Macney. Salve professoressa Macney. Ecco, per questa storia d'inglese se mi salta la gita. Probabilmente ti salterà la gita, te la sei cercata, non puoi lamentarti. Ha disobbedito. Ha insultato gravemente il clero. Si è rifiutato di uscire dalla classe. Ha evocato tutti gli apostoli. E come se non bastasse, ha concluso facendo alla professoressa questo gesto. No, è inammissibile, questo gesto è inammissibile, eh. Provi adesso a farlo a me, quel gesto. Prova. Lo faccia a me, signor Maroni. Prova. Lo faccia a me. Non ho fatto quel gesto. Signor Maroni. Prova. Oh, c'è il preside che lo sta sfidando, il preside Bosizio. Lei è espulso dal collegio. Ma come espulso dal collegio? Ma signor Presi, mi sembra una cosa esagerata, ma che cazzo è successo così all'improvviso? Buona gita a tutti gli altri. No. Vabbè, non è mai successa una cosa del genere. Prima doveva andare sul suo ufficio, ne parlavano e poi veniva espulso. Non è mai successo in questo modo. È una cosa scandalosa, assurdo. In parte condivido con te, però ti sei proprio comportato da persona maleducata, fatelo dire. Un suo collegio. Non ci credo, ma se ne sta veramente andando. Io pensavo solamente saltasse la gita, invece... Va bene, va bene, accettiamo, andiamo avanti. Parlerò così d'ora in poi. Bravo, non si sa per cosa, ma bravo. Urra! Urra alla persona che è appena stata espulsa. Diamo! Anch'io! Il pelato ha colpito ancora, appena che il prossimo non sia io. Ma non è vero, tu comunque hai iniziato a rigare dritto, per fortuna. Hai visto che ho comportato troppo male. Ma da che pulpito arriva questa constatazione, scusami? Riscondeva male, è normale dopo che ti spegno. Sì, ma tu finora che cosa hai fatto? Sei stato il peggiore di che cosa stai parlando, che ipocrita! Ma io ancora sono dentro, sono appeso al filo. Sì, ma ancora per poco, fidati, me lo sento. Sì, ma un filo di bava sei appeso, nemmeno a un filo vero. Arrivederlo. Arrivederlo. Mi fa impazzire sorvegliante che quando chiude il cancello sembra che stia incarcerando una persona. Giove. Mi. Minerva. Mignotta. Girone. Nell'ordine. Padre. Figlio. E spirito santo. Amen. Deo grazias. Buchini soret. E spirito santo. Muglie. E figlia. Comunque qui, se non l'avete capito, i collegiali si trovano ad Ostia Antica. Stanno facendo lezione col professor. Rania. Perché si sottoporranno tra poco ad una sorta di gioco dove dovranno rispondere alle domande chi vince in palio. Già, hanno messo questa cosa incredibile. Sembrerà una stronzata, ma fidatevi che con il cibo del collegio è oro questo. Hamburger più patatine. Che ne era uno che si chiamava Sterculo. Che lo sappiamo benissimo, che è il dio della... Condivate voi, non ne commenti, nella vostra mente, vi prego. Sterculo. Devo pregare Sterculo. No, non devi pregare Sterculo, nessuno te l'ha chiesto. Io ho solo una dea, e questa dea è la dea Barbara. Non ci credo ancora. Ma lui quanto è fissato con Barbara d'Urso, vi prego, quanto? Col cuore. Col culo. Farò la domanda il primo che prende la bandiera. Comunque Rania la ramoscia come me, è un po' più forte, ma sei il primo che prende la Barbara. Cioè, io sto prendendo per il culo una persona che la ramoscia, ma sono il primo davvero. Avrà diritto a rispondere. Le regole sono semplici, il primo che acchiappa la bandiera avrà il diritto di rispondere appunto alla domanda. Che cos'era il frigidarium? Forza, correti, forza! Limone, vi è piaciuto correre più veloci di me? E adesso vediamo se la sa risposta. Ma figurati se Casadei sa la risposta, non sa nulla nemmeno di se stesso. Uno, due, tre. Domanda annullata! Domanda annullata, fermi tutti, domanda annullata. Il nome di ogni divinità è la tria di Capitolina, vai! Dai, forza, ve l'hanno appena detto, cazzo! Giove Giunone Minerva, punto! Bravo, bravissimo, grandissimo, non mi ricordo come ti chiami, ma grandissimo. Sotto quale re viene fondata? Ostia, vai! Se non sbaglio, Totti, se non sbaglio. Anco Marzio, punto! Brava anche te, bravi! Oh, sono preparati questi ragazzuoli, attenzione! Domanda decisiva! Attenzione, domanda decisiva. Chi prenderà il punto si porterà a casa il bottino. Ecco che c'è il numero dieci. Vincenzo Rubino. Ma lui commenta sempre qualsiasi cosa succeda. Pronto a scattare. Forza Rubino, crediamo in te, ti prego. Dai, cazzo! Che cos'era un giorno nefasto? Dai, un giorno nefasto, lo dice la parola stessa, ne-ne-fasto. Viamo! La sua scatta! Bravo Rubino, anche se mi sembra che hai palesemente imbrogliato partendo prima, ma non importa, io ti amo. Un giorno brutto, sfavorevole. Favorevole, punto! Bravo Rubino, mi fa emozionare, bravissimo, bravo! I verdi mangiano patatine hamburger. Che buono patatine hamburger, ci sono le dieci del mattino e adesso le mangerai, ve lo giuro. Sono a dieta. Guardateli come festeggiano, come se avessero vinto la Champions League. Fate schifo, raga! Ma attenzione, chi è arrivata a insultarli? Chi è arrivata? Non sapete giocare! Invece tu, che te la stai prendendo, sai giocare, non ho capito. Rubino è barato, ammettilo almeno che si è preso. Ma perché dovrebbe ammetterlo? Ma chi se ne frega? Ma stai zitto! Io primo. A me non interessa il banino, l'hamburger. No, tranquilla che non ti interessa questo, che non stai rosicando come una pantegana. No, è tutto ca... Ma veramente si è messa a piangere, veramente? Vai, vai a piangere, vai! Ma sentite come la prendono per il culo, ma vai a piangere, vai, ma per cortesia! Ma sta piangendo per degli hamburger? Eh, purtroppo sì, sta piangendo per degli hamburger. Saper perdere non è sempre facile. Io odio perdere perché vorrei solo vincere nella mia vita, ma non è che mi metto a piangere se perdo. Soprattutto se sai che in collegio ti aspetta un bel piatto di... Pasta ai frutti di minchia! Un meraviglioso hamburger e patassi. Che buono, dopo mesi di minestroni, che cazzi amari e quant'altro, è anche giusto così. Gordo, mangio qualcosa di intelligente. Gordo, gordo! Ma li farò addirittura mangiare davanti agli altri, ma questa è la peggio cosa da fare in queste situazioni. Però mi dispiace mangiare davanti a lui. Ma che faccio, Rubino, ma è più imbrogliato. Mangiati quel panino e stai zitto, forse. Facci il pane. Non mi disturbare. Cioè aveva appena detto che gli spiaceva e a quell'altro fa non mi disturbare. Mi mancava proprio quel sapore. Vabbè, lui è il numero uno comunque, veramente il numero uno. Raga, va a f*** non me lo meritate. Ancora che si lamenta quella, ancora! Sono passati 18 giorni, ti prego. Siamo tre ragazzi di balletta le cebari. Attenzione, momento radio, uno dei miei momenti preferiti, devo dire. Se vieni da noi, siamo a sei. Ma cos'è questo momento freestyle? Siamo il tacco dello stivale. Comunque chiudono più rime della Dark Polo Gang, incredibile. E se tu ci sfidi, finisce male. E qui, sì, lo so che hanno provocato un po' di imbarazzo, ma li amiamo comunque. Buonasera, buonasera, siamo qui per la prima radiotrasmissione di Radio Puglia. Radio Puglia, ma io sto sognando, ma è incredibile sta cosa. Iniziamo con la cosa più amata all'interno del collegio e in generale tra tutti i ragazzi. Qual è la cosa più amata, sentiamo? Le ship. Le ship. Che non sentivo questa parola dai tempi di Anthony di Francesco. Qui parte la ship, non so se ve la ricordate. Tu vabbè parlato un po' del professor Maggi? Eh. Siamo dei secondi che tra lui e la smagnotto sembra essere finita. No, è finita la storia d'amore tra il professor Maggi e la prof di musica, non ci posso credere. Però la prof di musica del collegio non si tiene mai con le mani libere. In che senso? Ho iniziato un'altra relazione con quale professore? Con la petto licchio? Perché c'è infatti il professor di arte, carnevale. No, il professor d'arte addirittura, ma non ci credo. Pronto a guantare la frida. Ma no. Raga, lui è troppo simpatico. Se siete d'accordo fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ne dubito. Eh, ne dubito. Ne dubito. Sempre che state lì a... Perché si dice ci sia siri. Ma il preside sarà a conoscenza di questo gol. Secondo me il presidente non ne è conoscenza, assolutamente. Speriamo di no, perché sennò potrebbero essere cacciati. Ma come cacciati? Ma sono due professori comunque. Possono fare quello che vogliono. Se vogliono copulare possono anche farlo. Per la gioia del palato. Per la gioia del palato. Questa frase non può esistere all'interno del collegio, mi dispiace. Zampa di maiale con carote. Nemmeno il sorvegliante. Zampa di maiale con carote. Perché sa che dovrà mangiarlo pure lui. Che schifo di tenere i pila. Che cos'è che tiene i pila? Grazie, ho finito. Ma come è finito? C'è ancora tutto nel piatto. Ma da quando in qua i maiali si fanno la ceretta, scusami? Ma c'è una persona che sembra non aver attirato le simpatie dei collegiati. E so perfettamente a chi si sta riferendo alla voce narrante. Alla supplente. Salumi, salami, come cazzo. Si chiama. Arriva? No. Eccola, eccola che sta arrivando. Vabbè, raga, facciamo casino. Strano che Casadei abbia proposto di fare casino, non l'ha mai detto? Nuovo sta supplente, mamma. Mamma mia, che rottura di cazzo. Che bello, adesso facciamo fare casino. Vabbè, ragazzi, non ho più parole da spendere nei confronti di Casadei, mi dispiace. E parlava del cerchio, facevo le panine tonde con lo scotch, giustamente. Grande, quanti anni c'hai? Due? Grandissimi, un gangster. Quindi è... No. No, ha già riniziato a tirare ste cazzo di palline. Per colpa di qualcuno ho compito in classe. Ma come compito in classe? Ma per colpa di uno stronzo devo fare il compito in classe pure io. Casadei fuori. Casadei fuori, ti prego. Fuori. Finalmente. Cioè lui non vedeva l'ora di essere cacciato dall'aula. Ma allora? Ma gli sta tirando le palline di carta addosso. Ma perché ancora non è stato espulso? Io mi chiedo. È la mia domanda esistenziale di quest'oggi. Casadei fuori. Cioè fuori, te l'ha urlato per 200 volte e sei ancora in classe. Non la voglio vedere. Nemmeno noi ti vogliamo vedere, ti prego. Fuori di classe. La verifica. Ma non ci credo, è rientrato e si è seduto al posto dell'insegnante. Ma prendete dei provvedimenti, vi prego. Quante volte ho detto vi prego? Quante? Di qua. Via. Immediatamente. Queste sono delle vere e proprie mancanze di rispetto, sono sincero. Fuori di classe. Poi la voce della supplente è qualcosa di veramente insopportabile. Casadei. Casadei. Casadei, abbiamo capito. Casadei. Bene, è finita. Ma non ci credo, gli ha appena rubato la borsa, gli ha appena preso, non ci posso credere. O sta tranquilla al tuo posto. Ma non sei nemmeno accorta tra l'altro la supplente, ma dove vive? Casadei. No, la borsa. No. No, la borsa dopo mezz'ora che te l'ha rubata, no, no. Controlla se c'è il portafoglio pure. Questo è un furto. È un vero e proprio furto questo da denunciare agli organi competenti. Mi dia immediatamente la borsa. Madonna, sentite questa voce che raggiunge delle frequenze veramente fastidiosissime. Mi dia immediatamente la borsa. Abbiamo capito, non è che devi ripetere le cose 18 volte. Io ho un furto così divertente, in vita mia non l'ho mai visto. Non vuol dire nulla questa frase, mi dissocio. Oggi abbiamo proprio trepassato ogni limite. Secondo me il prossimo collegiale ad andarsi non è Casadei, ma è Sofia, perché non se la fa più a sopportare questa banda di nulla facenti. No, vabbè, io non reggerei un secondo all'interno di questa classe, ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. Mi farei schifo che fossi in voi, mi farei schifo. E hai ragione, come darti torto. Quella razza di bestie. Sono degli animali. Siamo andati giù nelle camerate femminili, abbiamo preso il letto. Ma perché la situazione è degenerata in questo modo? Eravate in aula. Cosa c'entra il letto adesso? Vai, vai, vai. Eh, eh, lasciatelo lì. Attenzione, è arrivato il sorvegliante, attenzione. Lasciatelo lì. Mamma mia, che disastro ragazzi, mi sono infastidito, mi sto innervosendo a guardare sta puntata. Gioia, buon giorno. Vabbè, ma vi hanno sgamato, vi hanno sgamato, è inutile che vi nascondete ormai. E mo' socca. Senza vi parlo, soccazzi. Buongiorno. Forza. Ma come buongio... Cioè lui esce da... Buongiorno. Casadei, a seguire. Forza. Abbiamo fatto la cazzo. E ci ha beccato tutti. Ma guarda, siete proprio delle persone insgamabili. Ma non mi si era nemmeno visti. Ora andiamo dal preside e ci darà una bella punizione. Ma spero che nel tuo caso sia una proprio di quelle punizioni estreme e severe, cioè fuori dalle palle. Seduti. Seduti. Grazie. Io avrei paura se fossi in voi. Est modus. Attenzione, si sta esprimendo in latino, non va affatto bene questa cosa. Il rebus. La puntata si conclude così. Est modus in rebus. Non so che minchia voglia dire perché non sono latino, l'ho studiato ma non me lo ricordo. Però ragazzi, secondo me nella prossima puntata accadrà di tutto. Quindi tenetevi pronti la prossima settimana sia su Twitch che su YouTube. Quarta puntata del collegio. Come sempre, spero che in qualche modo questo video vi sia piaciuto. Ve lo giuro, questa volta mi sono nervosito. Ho urlato troppo anch'io so... Ho sfasato. Sono veramente distrutto. Sto registrando da un'ora praticamente. Vi ringrazio per l'enorme supporto. Arriveranno tantissimi nuovi video. Continuerò al massimo. Darò sempre il mio meglio. E niente ragazzi, io vi mando un enorme abbraccio a distanza. Un enorme bacio. E vi voglio bene. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Non riesco mai a finirla senza interrompermi. Ciao ragazzi.